Ho apprezzato il modo esplicito in cui non si è limitato a citare Eros Ramazzotti e la canzone del Fermati, Gianni Cuperlo, ma gli ha anche detto dimettiti domani e convoca il congresso. Ma credo che sia davvero questione di pochi giorni, se vogliamo fermare la dinamica di frantumazione e di dissoluzione di questo partito che già si è avviata attraverso la sua organizzazione per correnti che guardano oggi innanzitutto alla propria sopravvivenza e a quale sistema la possa meglio garantire.